benvenuti nella mia cucina quest'oggi parliamo di bagnetto il bagnetto è un'operazione molto importante che ci permette di ridare forza a un lievito che non è in ottime condizioni che cosa succede infatti a volte succede che magari partiamo oppure non possiamo non possiamo rinfrescare il lievito per qualsiasi motivo quindi avremmo dovuto rinfrescarlo ogni tre giorni invece ne sono passati sette e il nostro lievito lo troviamo collassato oppure dopo tanto tempo che usiamo il nostro lievito iniziamo a sentire che sa un pochino di acido ok anche questo si risolve con il bagnetto oppure prima di fare un bel levitato importante abbiamo bisogno di un lievito che ha molta forza quindi iniziamo facendo un bel bagnetto insomma in tutta una serie di situazioni il bagnetto è utile per ridare forza al nostro lievito per togliere l'odore di acido e per per dargli una bella ringaluzzita ma vediamo come si fa allora per prima cosa prendiamo il nostro lievito e togliamo la parte sopra quella più dura ok eccola qua la togliamo e la mettiamo da parte allora dopo di che che cosa facciamo mettiamo in una ciotola un litro di acqua a temperatura ambiente ok aggiungiamo nella nostra ciotola mezzo cucchiaino di zucchero non di più ne serve proprio una puntina non esageriamo mescoliamo bene in modo che lo zucchero si sciolga un po nell'acqua lo zucchero servirà proprio per riequilibrare l'acido del nostro lievito e poi andiamo a prendere il nostro lievito e lo andiamo a tuffare nell'acqua facciamo proprio un bel bagnetto quindi prendiamo il nostro lievito madre cerchiamo di prenderlo non a pezzi prendiamolo tutto insieme ok ecco qui il nostro lievito ok e lo tuffiamo nell'acqua senza paura non vi preoccupate non succede nulla pluff lo lasciamo nell'acqua ok lo lasciamo così che fa il suo bagnetto per circa 15 20 minuti sono trascorsi 20 minuti adesso che cosa facciamo dobbiamo prendere il nostro lievito lo dobbiamo strizzare con forza ok strizziamolo bene in modo che non rimanga acqua al suo interno ok poi lo andiamo a pesare ce ne servono 100 grammi e lo rinfreschiamo normalmente quindi prendiamo 100 grammi di questo lievito strizzato aggiungiamo 100 grammi di farina 50 grammi di acqua lo rinfreschiamo e lo rimettiamo al suo posto ok ed eccoci qui ho appena fatto il rinfresco adesso è un po' molliccio perché ovviamente era un po' umidino ok visto che era stato nell'acqua adesso l'ho rinfrescato l'ho rimesso nel barattolo teniamolo d'occhio quindi vediamo se in tre ore raddoppia se raddoppia in tre ore ok non c'è problema lo rinfreschiamo di nuovo e poi lo mettiamo in frigo oppure lo usiamo se invece vediamo che ci mette ancora 5 ore a raddoppiare che è lento facciamo dei rinfreschi ravvicinati quindi si vede che gli serve un'operazione un pochettino più strong quindi lo rinfreschiamo di nuovo finché non ritorna a raddoppiare in tre o quattro ore e poi lo possiamo rimettere in frigo e continuare ad usarlo come abbiamo sempre fatto allora spero che questo video vi sia stato utile se vi è piaciuto mettete like iscrivetevi al canale se volete seguirmi anche su facebook cercate il gruppo lievito madre consigli e ricette ci vediamo al prossimo video